lo volete un biscottino? questi si chiamano reggine quando avete cottea non mangiavo capane e cerasa beh adesso vediamo se sono venute buone il caffettino del pomeriggio insieme a voi con il cuore non è lo cuore esterno con il cuore per voi internazionale ragazzi si squaggiano in bocca belle belle veramente è la prima volta che le ho fatte sono molto 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 contento buon caffè